ciao sono dottor massimo di filippo fisioterapista iscriviti al canale e clicca la campanella così rimarrai aggiornato su tutte le novità che cos'è la lesione del sovraspinoso ma soprattutto chi è il sovraspinoso si tratta di un muscolo che si trova sopra alla spina della scapola per questo ha questo nome te lo faccio vedere qui nel modellino anatomico questo rosso la spina della scapola è questa bianca invece in una persona reale te lo mostro su di me è nella parte superiore della spalla quindi è qui ora il sovraspinoso è un muscolo importante perché fa parte della cuffia dei rotatori cioè adesso togliamo il deltoide da questo modellino è un muscolo che fa parte di un gruppo chiamato cuffia dei rotatori perché in pratica è composto da sottoscapolare piccolo rotondo sovraspinoso e sottospinoso che come vedete formano una cuffia che va a avvolgere l'omero e quindi previene le lussazioni della spalla qui in blu vedete tutti i tendini della cuffia dei rotatori che avvolgono l'omero e effettuano le varie rotazioni sovraspinoso e sottospinoso effettuano le rotazioni esterne mentre il sottoscapolare il piccolo rotondo effettuano rotazioni interne ora questi muscoli sono fondamentali sono quelli che stabilizzano la spalla in realtà non è il muscolo del sovraspinoso che si rompe è il tendine perché perché tendine passa all'interno di un canale formato da diverse ossa che sono la scapola di lacromion il processo coracoideo qui davanti e l'omero ed è l'unico tendine che passa tra due ossa perché tutti gli altri tendini pensate tendine rotullio tendine d'achille ma tutti gli altri tendini che abbiamo passano all'esterno delle ossa per questo non sono così lesionati frequentemente invece questo tendine si lesiona veramente spesso voi considerate che pare secondo alcuni studi che il 40 per cento delle persone che hanno almeno 70 anni ha la lesione parziale totale di questo tendine quindi capite quanto è frequente ora chi colpisce la lesione del sovraspinoso può colpire gli sportivi in questo caso sono dei danni traumatici dei danni improvvisi io ho dei pazienti per esempio che giocano a pallavano che fanno questo movimento con molta forza e alcuni hanno rotto il sovraspinoso invece spesso colpisce gli anziani come dicevamo prima oltre i 70 anni è molto ma molto frequente perché passando tra due ossa questo tendine si sfilaccia sfrega 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 rompe una fibra oggi una fibra domani una fibra dopodomani e pian piano si forma una bella lesione quali sono i fattori di rischio della lesione del sovraspinoso ok sicuramente le persone che fanno alcuni tipi di lavori o sport in particolare chi tiene il braccio sopra la spalla penso per esempio ai lanciatori a livello di sport invece per i lavori sicuramente fare l'imbianchino è un fattore di rischio ci sono però dei fattori di rischio anche anatomici nel senso ci potrebbero essere delle persone Ulisse toglie le mani dalla bocca ci potrebbero essere delle persone che tra l'omero quindi tra l'osso del braccio e l'acromion hanno uno spazio ristretto se questo spazio è minore di un centimetro è molto più facile che ci sia uno sfregamento del tendine del sovraspinoso durante i movimenti questo qui che potete vedere è il tendine e questo è il muscolo ho preso il muscolo da un altro modellino ecco non è proprio suo però così ci capiamo molto meglio ora se noi abbiamo poco spazio ovviamente ci sarà uno sfregamento del tendine contro le ossa stessa cosa succede se c'è un'infiammazione del tendine perché perché quando il tendine è infiammato diventa più spesso e quindi è più facile che vada a contatto con le ossa durante i movimenti questo contatto crea attrito e questo pian piano se uno è giovane ancora ancora ma passati i 40 anni il tendine degenera e quindi è più facile che si lesioni ora ti spiego la reale causa della lesione del sovraspinoso che generalmente non si dice ma stai pronto perché dopo quando arriviamo ai sintomi ci sarà una grossa sorpresa partiamo dalla causa però perché si rompe questo sovraspinoso cioè perché alcuni lanciatori hanno questa lesione ma poi tanti altri non ce l'hanno perché molti anziani hanno la lesione del sovraspinoso ma tanti altri anziani a 70 80 90 anni hanno un sovraspinoso completamente integro ok sicuramente ci sono delle attività in cui la spalla è più sovraccaricata nel senso difficilmente un medico di base avrà una lesione del sovraspinoso però se questo medico di base ha delle alterazioni posturali potrebbe anche sviluppare questo tipo di problema vediamo un attimo cosa ho voluto dire in pratica ci possono essere delle alterazioni della postura sia statica che dinamica nel senso una persona potrebbe avere l'omero che si trova più in alto rispetto alla cromion e quindi ovviamente si riduce lo spazio nel senso che le ossa sono le stesse però ci sono dei muscoli che mi stanno spingendo su l'omero oppure ci può essere all'opposto una situazione in cui la scapola è più bassa perché ci sono dei muscoli che tirano la scapola più giù e quindi cosa succede che anche in questo caso ci sarà una maggior pressione della scapola verso il basso e quindi durante i movimenti l'omero andrà a schiacciarmi il mio tendine l'altra situazione che si può verificare è la scapola che non ruota abbastanza durante il movimento cioè considera che quando io alzo il braccio ho bisogno che la mia scapola ruoti perché se sta ferma il braccio si ferma qua non va oltre gli 80 90 gradi di sollevamento di flessione per avere una buona rotazione ci deve essere un buon coordinamento dei muscoli ma se i muscoli che la ruotano verso il basso sono accorciati e non si lasciano allungare quindi non permettono alla scapola di ruotare verso l'alto non so se mi sono spiegato molto bene comunque per ruotare la scapola bisogno che tutti i muscoli abbiano una lunghezza sufficiente non siano troppo rigidi altrimenti se alcuni muscoli sono rigidi possono bloccare questo movimento in tal caso la scapola non ruota il braccio ruota di più o comunque nel movimento ruota prima di quando dovrebbe e quindi va a schiacciare sovraspinoso l'ultimo caso è quello in cui la spalla è ruotata all'interno adesso te lo sto un po' esagerando per farti capire e questo accade molto spesso perché i rotatori interni sono più forti dei rotatori esterni ora vediamo un attimo chi sono i colpevoli in pratica se abbiamo l'omero più alto quindi l'osso del braccio che è risalito il colpevole principale è il deltoide questo muscolo qua che lo tira verso l'alto mentre in caso di scapola più bassa quindi di scapola inferiore il colpevole è il trapezio inferiore quindi questo muscolo che è più forte del trapezio superiore e quindi predomina e mi tira giù la mia scapolina se il problema è causato dalla scapola che non ruota verso l'alto abbastanza o comunque che non ruota nel tempismo corretto rispetto all'omero allora i colpevoli sono i romboidi quindi questi muscoli e l'elevatore della scapola un muscolo che origina dal collo e termina nella parte superiore della scapola infine ci può essere la predominanza dei muscoli pettorali in particolare e comunque dei rotatori interni in generale sui muscoli rotatori esterni quindi noi avremo pettorale che mi ruota il braccio e mi tira la spalla in avanti insieme al piccolo pettorale mentre i rotatori esterni quindi sovraspinoso e sottospinoso che sono più deboli e quindi predominano i rotatori interni e mi girano la spalla in così poi c'è anche il discorso traumatico nel senso che un paziente può rompere il tendine del sovraspinoso a causa di un trauma diretto un trauma diciamo di questo tipo in cui c'è una botta contro la cromion quindi non una caduta in avanti che è molto più frequente ma una caduta così diretta sulla spalla quando è che capita beh capita soprattutto io ho avuto due pazienti due signore di 45 50 anni che sono state investite camminavano l'auto le ha investite loro sono cadute hanno dato la botta e qui si è rotto il tendine io invece ho fatto un incidente in bici sono caduto più o meno così perché poi mi è venuta una bella cicatrice qua non so se si vede e niente però ero più giovane avevo 36 37 anni non ricordo esattamente e quindi il mio tendine fortunatamente era abbastanza forte e quindi si è salvato fatto anche la risonanza e non aveva dei danni la lesione del sovraspinoso è una cosa molto frequente con l'età nel senso che parliamo circa di un 40 per cento di persone che hanno almeno 70 anni con una lesione parziale o anche totale di almeno un tendine della cuffia quindi di almeno il sovraspinoso potrebbe però esserci una lesione anche di altri tendini i pazienti con la lesione del tendine del sovraspinoso e anche la lesione parziale più o meno parziale del tendine e anche la lesione parziale del tendine del sottospinoso che non hanno dolori sicuramente hanno meno forza perché perché comunque il tendine unisce il muscolo all'osso ed è il muscolo che muove l'osso quindi se non c'è il collegamento tra il muscolo e l'osso nessuno lo muove me ne accorgo subito quando viene il paziente che ha la lesione del sovraspinoso e la lesione eventualmente anche del sottospinoso perché non riesce a fare forza nelle rotazioni esterne quindi in questo movimento e quindi cosa fa è un paziente che quando si vuole svestire parte da questa posizione non riesce a tenere il braccio così quindi se vuole svestirsi mentre io faccio questo movimento lui parte così e farà un movimento strano io mi ricordo mia nonna che si piegava in basso e faceva tutto un movimento così si vede subito che è un movimento non naturale per togliersi la maglietta oppure per esempio il fisioterapista francesco inglese che è specializzato sulla spalla è uno dei massimi esperti della capsulita adesiva al mondo probabilmente dice sempre che mettendo il braccio in questa posizione in rotazione esterna questo praticamente rimbalza e torna indietro e questo è abbastanza normale da capire perché noi abbiamo bisogno comunque dei rotatori esterni e i rotatori esterni sono solo questi quindi una lesione di questi muscoli non ci permette di fare la rotazione esterna o comunque non ci dà abbastanza forza però non è necessario avere dolore perché il dolore si verifica quando c'è l'infiammazione o quando ci sono delle contratture quando c'è qualcosa che ce lo causa il dolore però non dimentichiamo una cosa cioè una persona può avere dolore alla spalla anche senza avere la lesione del sovraspinoso quindi perché alcune persone dicono ok io ho la lesione sovraspinoso quindi per forza il dolore viene da lì ma chi l'ha detto e se tu avessi la lesione del sovraspinoso ma anche una contrattura ai muscoli della spalla delle aderenze delle rigidità che possono essere alla scapola e mi danno dolore alla spalla è assolutamente normale anzi molto frequente anche perché come abbiamo visto se abbiamo la lesione del sovraspinoso c'è un motivo cioè non viene a tutti viene a chi ha delle particolari rigidità a chi ha delle particolari tensioni che mi vanno a schiacciare questo tendine quindi ovviamente abbiamo detto che ci sarà una debolezza se la lesione è importante se invece la lesione è solo parziale una persona neanche se ne accorge quindi abbiamo visto che la lesione del sovraspinoso è la conseguenza di un problema non è la causa ora le persone che hanno questa lesione hanno anche una specie di crepitio di scricchiolio durante i movimenti per esempio una persona alza il braccio in questo modo e sente come della sabbia un continuo grattare perché c'è questo attrito a livello della spalla e la spalla è veramente una zona complicata da studiare però ecco quello che volevo farti capire è che il paziente con la lesione del sovraspinoso può avere dolore a causa per esempio di una tendinite del bicipite di una borsite cioè dell'infiammazione della borsa una sacca di liquido che si trova tra la chromium e l'omero ora stiamo parlando di disturbi molto frequenti considerate che secondo delle statistiche che ho letto parliamo di 50 per cento della popolazione che almeno una volta all'anno soffre di un qualche dolore alla spalla secondo me tra spalla e schiena se la giocano è su qual è il più frequente io per esempio più probabilmente ho più dolore alla spalla che alla schiena come il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte anche il fisioterapista deve andare in giro con qualche problema soprattutto la spalla ha dei legami importantissimi con il resto del braccio col collo col petto con la schiena anche con la schiena bassa perché c'è per esempio il gran dorsale e poi può dipendere anche dalla postura nel senso una persona con una scogliosi o una cifosi quindi una gomma importante può avere problemi di spalla oppure ci possono essere delle tensioni a livello dell'addome a livello anche del bacino che mi tirano giù la spalla bisogna fare una valutazione un pochino generale e anche il trattamento non può concentrarsi nel punto dolente ma deve guardare anche all'esterno certo con l'osteopatia riusciamo a lavorare anche di più sui nervi perché ovviamente se c'è un nervo che ha qualche problema lungo il percorso potrebbe andare a causare anche del dolore alla spalla ma anche oggi con la fisioterapia perché siamo andati molto avanti gli esercizi permettono di migliorare la coordinazione dei muscoli quindi di andare all'origine del problema quindi ci vanno a togliere quegli squilibri posturali e muscolari che danno poi come conseguenza la lesione del sovraspinoso e tutto il resto ok ora andiamo a vedere gli esercizi per questo problema di spalla che quindi ha portato alla lesione del sovraspinoso noi andiamo a rinforzare in particolare il trapezio medio e la cuffia dei rotatori poi ti rimando un altro video in cui parlavo degli esercizi pendolari di codeman esercizi che mi vanno ad abbassare anche se temporaneamente l'omero rispetto alla scapola e quindi lasciano più spazio dove può circolare il sangue e questo aiuta anche a migliorare la situazione ora partiamo subito con un esercizio per la cuffia dei rotatori in particolare per i rotatori esterni come il sovraspinoso per fare questo ci sdraiamo sul fianco allora facciamo conto che io ho la lesione sul braccio sinistro quindi appoggio il gomito sul fianco sinistro e poi da questa posizione parto con la mano a livello della pancia io vi consiglio di usare un pesetto leggero già un chilo può andar bene se non avete un manubrio del genere a casa è sufficiente prendere una confezione per esempio di zucchero di riso quello che avete in casa poi da questa posizione dobbiamo fare questo movimento lo facciamo 10 volte via 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 molto bene ora ci sdraiamo a pancia in giù e facciamo un esercizio per il trapezio medio come si effettua allora per fare questo esercizio dobbiamo stare con la spalla sul bordo del letto e da qui dobbiamo sollevare il braccio con il pollice verso l'alto in questo modo così lo facciamo 10 volte via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 molto bene ora invece andiamo a rinforzare il muscolo sottoscapolare vi faccio vedere un esercizio molto semplice che quindi potete fare anche in fase acuta quando avete molto dolore si effettua in questo modo allora sollevo un po' qua per la testa potete utilizzare un cuscino ecco non è un problema poi dobbiamo mettere il braccio con il gomito che è lo stesso livello della spalla è importante questo perché se no andiamo a rinforzare il pettorale cioè se io tenessi il braccio qui e facessi questo movimento andrei a rinforzare più il pettorale invece a questo livello e riesco a concentrarmi di più sul sottoscapolare che nella cuffia del rotatore quindi partiamo da qui e portiamo il braccio in questo modo verso l'interno lo facciamo 10 volte via 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 molto bene grazie per l'attenzione ora guarda questo video che ho preparato con cura per spiegarti bene cosa fare però prima non dimenticare di mettere like pollice alto condividere con tutti i tuoi amici se vuoi farli stare bene e lasciare un commento per qualunque domanda o suggerimento rimaniamo in contatto seguici su facebook e instagram